e adesso io accolgo sul palco con un fortissimo applauso una nuova new entry Michele Rusticucci di Agile Business Group e quindi l'applauso adesso è tutto per te i due primi passi dalla PR alla Merge quindi oggi la giornata è anche indirizzata verso la metodologia di contributo come possiamo contribuire a tutto a questo diciamo meraviglioso mondo di O2 e alla community ma io non mi dilungo lascio a te il mio giraslide quindi me lo devi restituire mi raccomando buon lavoro buongiorno a tutti mi fa piacere essere qui innanzitutto è veramente bellissimo potervi guardare tutti quanti in faccia finalmente un ringraziamento anche a Stefano di Agile Business per questa opportunità oggi vorrei parlarvi sì del percorso dalla PR al Merge sì delle cose tecniche ma non solo perché quando sono entrato in Agile e ho iniziato a lavorare due anni fa venivo da un mondo in cui non c'era questo spirito di condivisione e di conseguenza le regole venivano sempre dettate dall'alto non c'era mai dover creare un'organizzazione e una coesione di massa per migliorarsi all'inizio io quando sono entrato quindi sono rimasto un po' spaisato sono rimasto un po' quante cose, quanta documentazione, da dove devo partire non c'è un'unica strada decisa e di conseguenza ho pensato di fare un'introduzione a quello che è OCA un'introduzione a perché esiste Eudu Italia, qual è il suo scopo e poi andremo ad accennare anche un po' di di accordi tecnici che abbiamo e di modi di fare quindi che cosa siamo? Dove siamo nati? Allora OCA è nata come come associazione per espandere e migliorare in qualche modo per un certo periodo anche sostenere un po' lo sviluppo di Eudu OCA ha permesso la crescita di Eudu nel mondo e questa organizzazione è ovviamente un'organizzazione no profit, ovviamente ha una serie di organizzazioni interne, l'IPSC e come vengono gestiti i vari progetti Eudu Italia invece d'altro canto è un'organizzazione italiana per convogliare nella stessa direzione quindi dare una direzione a quello che è il repository italiano, entrambe sono organizzazioni no profit entrambe sono organizzazioni che puntano e mirano alla collaborazione e al miglioramento del codice libero Quello che... dove siamo finiti? Quindi questo è un po' perché ci sono due associazioni, perché ne esistono due contemporaneamente e in che modo vanno a parlarsi tra di loro Ovviamente Odu Italia è un layer aggiuntivo a OCA che aggiunge anche alcuni elementi aggiunge alcuni modi e approcci che vanno rispettati per far parte un pochino di questo mondo ma le domande sono sempre quelle perché contribuire, a cosa ci porta, perché dovremmo impiegare del nostro tempo materiale del nostro tempo delle aziende per contribuire a fondamentalmente altre aziende, al profitto di altre aziende cosa ci spinge? Beh, i motivi li abbiamo ripetuti più volte ma vale sempre la pena Ovviamente OCA essendo un'associazione particolarmente grande per fortuna ha dovuto creare un framework di lavoro che organizza e quindi permette a questa piccola società di persone, questo piccolo raggruppamento di persone permette di lavorare in una maniera coesa e lavorare tutti nello stesso modo quindi standardizzare e permettere la crescita dell'associazione Di conseguenza ne tireremo fuori che la qualità dei moduli certificati da OCA e rilasciati da dossier sono di una qualità particolarmente alta immagino che tutte le persone, per pressoché tutti qui conosciamo OCA o comunque sia Odu o almeno me lo auguro e sappiamo che OCA è una sicurezza, è una certezza avere qualcosa mantenuto, sostenuto e portato avanti da OCA è una certezza Quindi perché contribuire? Beh contribuire ti garantisce una qualità dei moduli non indifferente che se tu per primo non porti avanti nessun altro porterà avanti La collaborazione continua, questo si riflette anche negli altri punti non solo a livello di formazione, non solo a livello di onboarding perchè nel momento in cui dovrete prendere, io l'ho visto per primo, un nuovo dipendente, una nuova risorsa una nuova persona, avete una code base con centinaia, migliaia di esempi di implementazione con le best practices che sono studiate da anni dai professionisti maggiori e questo ti permette di avere una formazione continua da una parte questo ti permette di avere personale più facilmente formabile e una continua collaborazione tra varie aziende quindi un'unione di sforzi per progetti magari che per una singola azienda non sono sostenibili questo, tutto questo ovviamente va a finire nel costo più grande che c'è che è il mantenimento di un modulo perchè sappiamo tutti quanti che scrivere, creare, aggiungere qualcosa non è particolarmente difficile e anzi è la parte più divertente ma il mantenimento e forse le migrazioni che è una parola di cui fare silenzio le migrazioni sono sempre una cosa che ci porta avanti tanto peso e ci sono, c'è la necessità, perchè non è possibile svilupparsi tutto in house di collaborare e in fondo alla fine perchè no? perchè non dovreste contribuire se fate parte di una community? non fate l'errore di prendere e basta ma perchè avrete solo metà dei vantaggi della community perchè nel momento in cui prendete e basta e di conseguenza risultate invisibili agli occhi della community se doveste avere un problema, se doveste avere un bisogno se doveste avere una proposta magari da fare per un modulo che già utilizzate ovviamente sarete invisibili, non sarete invisibili ma sarete un pochino meno visibili di chi magari partecipa attivamente di chi magari porta avanti invece i progetti aiuta a mantenere la community e aiuta a crescerci di conseguenza contribuire quindi dare e non prendere solo è quello che ti rende, ti dà anche la possibilità di poi aggiungere o migliorare o aggiustare il codice che poi andrai a utilizzare anche tu e come in ogni società c'è modo in modo c'è modo in modo di fare le cose, c'è modo in modo di presentarsi c'è modo in modo per comunicare quando sono entrato, stavo dicendo dal mio punto di vista mi sono messo davanti a una serie di documenti quindi ci abbiamo quelli OCA, ci abbiamo magari il codice di condotta di Udo Italia ci abbiamo le convenzioni tecniche che vanno rispettate perché altrimenti sbagli tutto quanto quindi dove le possiamo trovare? quello che volevo fare con questo intervento era anche dare a chi magari si approccia a chi magari non sa da dove partire una serie di riferimenti tutti in uno stesso posto e i link magari prenderli e sapere da dove partire e che cosa fare quindi ve li illustro brevemente ma comunque sia vi invito ovviamente ad andarveli a recuperare da soli non sarò io a potervi insegnare tutto il contesto OCA abbiamo il codice di condotta di OCA il codice di condotta di OCA è fondamentalmente alla base del nostro approccio all'open source e si sovrappone parzialmente con quello che è il codice etico di Udo Italia che invece è un layer aggiuntivo al codice di condotta di OCA ovvero riassunto in pochissime parole è collaborazione siate persone gentili siate collaborativi siate tutti quanti be nice fondamentalmente e in più il codice di Udo Italia va ad aggiungere un layer aggiuntivo va ad aggiungere un livello di di spirito non solo di come comportarsi guardando le convenzioni tecniche OCA invece qui entriamo un pochino più nel mio reparto io sono un tecnico quindi entriamo in come fare determinate cose come presentare determinate cose sapete tutti i tecnici in sala che adesso non so individuare perché le faccio ancora non le riconosco tutte sapete tutti i tecnici che scrivere codice spesso è molto espressivo ognuno lo scrive a modo suo ognuno ci mette del suo in un modo o nell'altro sono scritte ma comunque sia i problemi si approcciano in tantissimi modi diversi e ogni virgola può fare la differenza ogni persona si può riflettere nel proprio codice ovviamente questo è bellissimo da un punto di vista filosofico è terribile da un punto di vista organizzativo e di mantenimento del codice perché deve essere standardizzato perché se non c'è un perimetro se non c'è un modo per delineare quali sono le cose giuste da fare quali sono le cose che sarebbe meglio evitare che creano confusione che rendono difficili le migrazioni e e di conseguenza ci sono una serie di competenze di convenzioni tecniche che andate a leggere prima di andare a fare la vostra prima PR e poi c'è la CLA la CLA è semplicemente un accordo che si prende con OCA con OCA per la gestione del copyright e del codice che voi andrete a contribuire così che possa essere utilizzato anche dall'altra persona e quindi cosa fare la tua prima volta le prime volte sono sempre un po' un po' così sono sempre un po' che non si sa dove mettere le mani ci si sente giudicati come prima cosa le prefazioni è tutta una prefazione questo questo intervento perché vorrei concentrarmi sul lato umano vorrei concentrarmi sul sul fatto che ok il codice ok le aziende ok tutto quello che ne compete da quel punto di vista ma da una sedia all'altra da un monitor all'altro siamo sempre persone quindi siate rispettosi adesso scusatemi ogni tanto sbircio perché siate rispettosi ricordatevi di essere online ricordatevi che tutti abbiamo un lavoro tutti abbiamo altri impegni oltre al lavoro quindi se qualcuno non risponde insomma non andate subito a pensare che gli stiate antipatici o se qualcuno vi risponde in maniera un po' così prendetevi il tempo e pensate al ok no forse mi sono capito male meglio chiedere è sempre meglio chiedere in anticipo e magari cercare di spiegarsi bene ovviamente non abbiate fretta di fare le PR è bellissimo contribuire è bellissimo dare a questa community è bellissimo farne parte ma non è l'unico modo aggiungere fare delle PR per i non tecnici fare delle proposte di modifica che possano essere di aggiustare un comportamento o migliorarlo fare eh se non avete niente da proporre fate delle review andatevi fatevi un giretto quello anche da visibilità per ricollegarci al discorso di prima entrando leggermente più nel tecnico ci abbiamo un po' di convenzioni soprattutto ecco legati a Uduitalia soprattutto legati al repository italiano poi ovviamente ogni progetto si gestisce un po' a modo suo perché ha ovviamente il suo comitato diciamo che nella localizzazione italiana stiamo particolarmente attenti alla forma o almeno questa è stata è stata un po' la mia impressione ma per fortuna perché abbiamo una pulizia e abbiamo un mantenimento dei moduli eccellente le pull request anche qui andatevi a recuperare come contribuire in fondo ci sarà una slide con una serie di link andatevi a recuperare come contribuire quali sono i i moduli i modi necessari per approcciare una PR cosa dovete aggiungere cosa dovete scrivere come si fa una PR a cosa vi dovete iscrivere chi contattare insomma ci sono una serie di informazioni che sono scritte sono ben definite bisogna prendersi la pazienza di leggerle e trovarle soprattutto che le possiamo trovare tutte quante qui e di conseguenza abbiamo ecco le PR ogni PR tendenzialmente potrebbe avere su più versioni quindi è sempre bene tracciarla magari con una issue e questa issue ovviamente deve essere definita in un determinato modo deve essere esplicativa i commit message devono essere scritti in un determinato modo sono una serie di piccoli dettagli che ci portano a essere la società OCA che siamo ci portano a essere questa community association e ci permette di comunicare online ci sono una serie di cose tecniche che ovviamente adesso non mi sto a dilungare particolarmente e quindi abbiamo aprire una PR il tracciamento della tua PR i test che sappiamo tutti quanti essere un punto abbastanza caldo e di conseguenza la gestione della tua PR tutto il framework che offre OCA che non è solo di carattere umano non è solo di carattere organizzativo ma sono anche di carattere tecnico come la CI ben definita ben funzionante che alla quale dobbiamo sottostare e quindi se fallisce dobbiamo provare dobbiamo abbiamo la possibilità di utilizzare il runbot abbiamo i test automatici con diverse funzionalità per garantire è tutto mirato a garantire la vera funzionalità di OCA la vera funzionalità del modulo e la sicurezza del modulo e quindi arriviamo diciamo parzialmente in fase conclusiva alla review la review che è il momento clou della tua PR o delle PR degli altri perché saremo sempre da entrambe le parti la review ovviamente ha la sua importanza ma anche qui dobbiamo ricordarci di essere online anche qui dobbiamo ricordarci di comunicare il nostro intento dobbiamo sempre comunicare anche queste sono tutte cose che poi si ricollegano all'interno della documentazione se vi guardate ad esempio i commit message dovete sempre comunicare l'intento mai che cosa avete fatto perché è importante capirci e per capirci dobbiamo comunicare quello che vogliamo fare non quello che abbiamo fatto perché altrimenti non possiamo trovare una direzione nel futuro di conseguenza eccoci qui finalmente al merge il merge ha dei parametri anch'essi definiti da OCA sempre per garantire un po' la base e la solidità dei moduli alla fine alla fine del merge avremo un nostro modulo con il nostro nome all'interno dei contributors con la nostra visibilità e anche noi faremo parte quindi di OCA anche noi faremo parte di questo mondo bellissimo fatto di persone fatto di umani fatto di aziende che mirano a crescere insieme che mirano a collaborare e mi fa molto piacere fare un po' questo discorso un po' umano un po' anche più leggero visto che è la seconda giornata e siamo tutti un po' più un po' leggermente cotti sono contento di aver visto gli awards che comunque sia conferiscono ancora di più un modo di di comunicare di OCA e quindi di di essere coesi di essere insieme qui potete vedere scusate io miro qui sotto perché c'è il monitor ma in realtà voi guardate qui qui potete vedere la serie dei link una serie di documentazioni che se è la vostra prima volta vi consiglio di andarvi a recuperare vi consiglio di leggervi piano piano la sera ve li scrollate con molta tranquillità ma è necessario è necessario per entrare in una società per entrare in una società che non è diretta dall'alto che non è closed che non è IBM che vi lancia delle informazioni e vi dirige in un'unica strada ma è una società che si è dovuta creare delle regole proprie per governare una serie di persone e per poter andare avanti perché senza regole senza un minimo di conformazione senza un minimo di standardizzazione è impossibile andare avanti quindi non percepiteli come muri che vi comprimono tutti i dettagli tecnici necessari da rispettare all'interno di una PR perché vanno fatti in un determinato modo non percepiteli come muri ma percepiteli come perimetro di quello che è la società OCA e se volete partecipare se volete contribuire a questa società nello stesso modo in cui non attraversate fuori dalle strisce pedonali allo stesso modo dovete rispettare delle regole che sono necessarie per il funzionamento di OCA quindi non sbattete contro il muro ma superate questo perimetro per entrare all'interno del mondo OCA grazie per avermi ascoltato questo è tutto spero di essere stato l'ispirazione per benissimo direi per nuovi eri preoccupato ma sei andato alla grande grazie mille dai è stato un piacere ti vedrai bene come presidente vedremo intanto il ruolo è quello di fare il presentatore perfetto quindi va bene grazie mille allora mi direi dove vai ah no no sto qua non ti muover più facciamolo un applauso perché è stato bravo al suo primo speech agli odio testi d'Italia e tra l'altro è stato un argomento io vi dire esposto egregiamente nel senso che colpisce chiaramente nel segno e sposa l'obiettivo dell'associazione se vogliamo partire con le domande iniziate a bruciarvi le domande perché poi te le attesto Vito niente oggi ok va bene allora se non ci sono eccolo eccolo e ogni volta che arrivo nel dire va bene se non ci sono domande spunta la mano bisogna chiudere senza dirlo dobbiamo prenderli volevo sapere su OCA o OCA se è l'inglese la lingua di riportamento certo che quindi è internazionale OCA sì 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 OCA è un'organizzazione internazionale divisa in diversi progetti ogni progetto ha il suo comitato che organizza la direzione di quel progetto e ovviamente ci sono tra i vari progetti le varie localizzazioni di conseguenza noi abbiamo la localizzazione italiana preferiamo lo stesso una comunicazione inglese comunque sia per conformità verso nei riguardi di OCA e essendo un'associazione internazionale non sappiamo mai che magari domani può avvenire non lo so un tedesco che ci chiede delle informazioni sul modulo quindi perché non parlare inglese comunque sia può non essere una lingua madre ma fa parte della formazione continua comunque siamo online l'inglese purtroppo è necessario purtroppo per fortuna è necessario ci sono casi in cui in realtà molte aziende molti multinazionali utilizzano Odu per cui chi segue il progetto ha poi bisogno anche della localizzazione italiana per le sedi italiane e quindi diciamo è utile per questo ma è utile anche perché anche noi spesso e volentieri andiamo a riutilizzare moduli di OCA per il magazzino gli acquisti i vari flussi e quindi di conseguenza se vogliamo dare anche un contributo su OCA più ampiamente abbiamo necessità comunque di essere inglese certo ma giustamente comunque fa parte della standardizzazione fa parte di questa necessità organizzativa volevo sapere se c'è un modulo c'è un modo per punire chi fa moduli tipo ricevute bancarie se maledette ricevute bancarie dovremmo dovremmo forse con U2 Italia fare delle stanze di no non lo so è tutta colpa delle ricevute bancarie tutta colpa delle ricevute bancarie perfetto non entro in queste faide un'altra domanda lì buongiorno e grazie per la bella relazione sicuramente esaustiva per capire bene il mondo di OCA dunque io volevo fare una domanda forse anche un po' provocatoria come vedete l'uso dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo di codice che potrebbe essere di ausilio appunto allo sviluppo di un APR allora non sono io sono diciamo che non sono nella parte di chi prende le decisioni e chi magari può decidere se questa è una cosa accettabile oppure no di conseguenza ti posso dare un parere personale il codice è codice dobbiamo essere noi a certificare che quel codice sia valido utilizzare le intelligenze artificiali per scrivere codice può sembrare una manna dal cielo ma ovviamente non sarà mai dell'ottimo codice ma è allo stesso livello di trovare del codice di risposta magari su stack overflow sarà sempre un codice che esiste dal quale possiamo imparare qualcosa ma comunque all'interno di OCA soprattutto immagino ma qui mi correggerete ovviamente non penso di averne l'autorità per decretare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato all'interno di OCA immagino che sia che ci sia volontà di avere del codice scritto bene e su cui ogni riga è ben pensata mettiamola così e questo lo vediamo in fase di review comunque sia motivo per il quale ci si può sentire un po' aggrediti magari perché mettere del codice ovviamente non che ci siano delle aggressioni ma perché mettere del codice fuori esporre del proprio codice sapranno gli altri tecnici è un po' esporre parte di se stessi e di conseguenza come dicevo prima il codice è molto personale e va standardizzato e quindi le persone in fase di review adesso ritorno al punto scusami in fase di review fanno un po' le pulci ogni tanto magari su ogni riga e del codice generato automaticamente da un'intelligenza artificiale preso copiato incollato così difficilmente rispetta quello che potrebbero essere delle best practices che invece adotta OCA quindi potrebbe funzionare ma il fatto che funzioni non è tutto perché deve essere scritto bene diciamo che potrebbe essere di supporto in una fase iniziale però poi comunque è fondamentale metterci il contributo umano esatto esatto comunque sia non sarà mai del codice per ora adesso non lo so magari tra cinque anni siamo tutti senza lavoro poi arriveremo a un punto in cui andremo dal cliente col microfono il cliente detta le specifiche l'intelligenza artificiale scrive il modulo e noi tutti a casa esatto quindi questo tra un po' non lo so ad oggi ti direi non credo che sia un'ottima soluzione affidarsi unicamente al codice generato dall'intelligenza artificiale ma allo stesso modo in cui non è buono affidarsi unicamente a codice copia incollato da internet è sempre codice generato però diciamo la domanda era un po' diversa nel senso che sicuramente c'è una regolamentazione già attiva parliamo delle IEA Act della comunità europea recente decreto di marzo sulla intelligenza artificiale quindi forse uno dei primi decreti pubblicati a livello coordinativo in Italia che naturalmente pone la responsabilità finale sempre a una persona un individuo qualunque sia il servizio o il prodotto sviluppato da un'intelligenza artificiale generativa ci deve essere sempre un responsabile che si fa carico di quello che poi questo prodotto in qualche maniera genera quindi all'interno di questo discorso la domanda era questa cioè era dal punto di vista normativo se o se si è attrezzata per aderire al contesto normativo dell'intelligenza più che altro anche a sviluppare un motore generativo di codice che poi comunque viene sottoposto all'attenzione della community per le review che sono secondo quei procedimenti e regoli sono state indicate quindi la responsabilità ricade sempre sulle persone della community ma a generare il codice su un prompt che viene generato da qualcuno che propone un APR è sempre insomma diciamo la responsabilità finale delle persone che fanno parte di questa community allora non altrimenti quello che succede io ho provato a fare e mi sono anche sbalordito delle soluzioni che venivano prodotti dal chat GPT versione pubblica insomma effettivamente alcuni codici alcuni segmenti sono veramente sbalorditivi nell'efficienza anche nei commenti vengono prodotti cosa fa chat GPT si addestrata sostanzialmente su tutto ciò che è stato prodotto anche da OCA dai social eccetera perché non porre invece direttamente da parte di OCA un'attenzione allo sviluppo di questa intelligenza artificiale specificatamente pensata per sviluppare codice per Udo allora questa è una domanda che ti invito a direzionare forse verso il comitato più che verso di me perché comunque sia poi magari possiamo parlarne successivamente con Simone successivamente vedremo perché altrimenti che lo abbiamo premiato a fare se non ci dà le risposte è vero è vero non ci ho pensato ma avremo un talk più tecnico successivamente va bene grazie mille c'era l'ultima domanda da quella parte forse volevi facciamo sempre in modo che Marcello sia allenato ben allenato no grazie intanto volevo ringraziare perché mi è piaciuto molto l'intervento tra il tecnico e l'umano che è una cosa che effettivamente mi ha colpito io sono un non tecnico ovvero un utilizzatore da anni di Odu mi piace molto sia software che come filosofia che ci sta dietro da qualche tempo sto cercando di iniziare anche a entrare nella parte dietro e quindi mi chiedevo se nella community ci fosse spazio anche per non tecnici visto che qui si parla molto di programmazione di programmatori ma io non sono né un programmatore né un tecnico sono un utilizzatore appassionato però ha voglia di entrare in un mondo che è umano e di condivisione che mi piace molto un primo approccio potrebbe essere da non tecnico quello di verificare la funzionalità nell'EPR all'interno dell'EPR non so se possiamo tornare indietro un paio di slide scusami all'interno dell'EPR c'è la possibilità di eseguire un'istanza con quel codice modificato da utilizzatore se conosci bene quella parte lì potresti entrare verificare che la proposta di modifica funzioni che quindi risolva la issue e di conseguenza fare una review non tecnica ma funzionale che può essere un primo modo per entrare un primo modo per approcciarsi poi da lì si entra e non si esce più comunque tenete presente che poi tutto il materiale viene pubblicato sul portale dell'associazione mondiale quindi troverete oltre ai video insomma dei singoli interventi che andiamo a registrare e spezzettare con calma ovviamente su youtube trovate le slide per cui sarà tutto diciamo accessibile un applauso grazie mille grazie mille grazie mille